Adesso vediamo cosa troviamo su Sì, è vero, è vero Sì, 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 sì. se si è infognato e anche lì là è uguale chiaramente il macete l'ho lasciato a casa ascoltami se no che gusto c'è dammi un legno si ma passi giù subito sotto poi come cavernicoli si ma passi giù subito Grazie a tutti.